Musica Benvenuti a Caserta Sera Stadio per discorrere oggi di Pugilato e ne parleremo con il maestro della Polisportiva Matese, Geppino Corbo. Benvenuto. Ha da poco aderito al grande progetto sportivo della Polisportiva Matese. Sta andando tutto bene? Sì, bisogna ancora far fare un po' di esperienza ai nostri dirigenti perché il Pugilato è uno sport molto particolare, non è il calcio, non è altro sport che della Polisportiva che sono più malleabili. Il Pugilato è uno sport molto complicato anche a livello dirigenziale, anche come si deve portare, e come si deve istruire tutto l'andazzo degli allenamenti. Quali sono al momento i vostri programmi? I programmi in questo momento sono... abbiamo una riunione la settimana prossima per decidere di organizzare una manifestazione. Io spero di farne almeno due fino alla fine dell'anno. abbiamo dei ragazzi che hanno bisogno di fare esperienza, di combattere perché hanno fatto poca attività quest'anno e quindi hanno un deficit di esperienza. Io per l'anno prossimo un paio di ragazzi, due tre ragazzi, una ragazza che spero che possano fare il salto di qualità e quindi dobbiamo a tutti i costi e organizzare delle manifestazioni per poterle fare esperienza e devono stare sul ring, perché sul ring... Quanti ragazzi seguite attualmente? Attualmente che fanno attività agonistica sono sette, sei o sette sono, però abbiamo una palestra piena di ragazzi, l'anno prossimo avremo una decina di debuttanti, quindi possiamo organizzare anche delle manifestazioni con tutti i pugili della nostra società. Ci svela il nome del pugile su cui ha maggiori aspettative e che considera pronto per qualche importante competizione? Sì, ci stanno dei ragazzi e in effetti quest'anno è come l'anno zero, abbiamo una ragazza che è stata campionessa di età, campione d'Italia e l'anno scorso si è perso in finale, sempre vice campione d'Italia. Maestro, prima di chiudere una domanda voglio fargliela. Che idea si è fatto del caso di Angela Carini alle Olimpia di Parigi di cui si è tanto parlato? Mi aspettavo questa domanda, io non ho avuto il piacere di parlarle dopo, solo qualche messaggino sul telefonino, però io sono rimasto molto scosso dalle insinuazioni che si sono fatte sui social contro questa ragazza, perché è una ragazza che sicuramente ha dimostrato sempre di avere coraggio, non si vince due europei e un mondiale se non si ha coraggio, non si accoraggia, non si qualifica per due Olimpiadi, quindi poi bisogna dire anche che molte ragazze che sono Olimpiadi ci ha combattuto e le ha battute facilmente. Io sono convinto che sia stato un battaggio pubblicitario fatto sul fatto dell'avversario, che era donna, maschio, lei era una ragazza con i cromosomi maschili, e ci stanno anche in altri sport questi casi, purtroppo lei secondo me è stata condizionata da questo battaggio mediatico che c'è stato prima del match ed è salito sul ring senza convinzione. Bene, il nostro incontro con il maestro Corbo termina qui, grazie a tutti voi, alla prossima intervista. Sigla! Grazie a tutti!